Sicuramente siamo stati più attenti, più concentrati, come diceva anche il mister il doppio vantaggio ci ha dato una mano e i nuovi acquisti ci hanno dato una grossa mano e c'è da continuare così, tutti a fare tutte e due le fasi fatte bene e non farne solo una, tutti sempre attivi, tutti pronti sulle seconde palle, questa è la strada giusta dove abbiamo cominciato questo ritorno e dobbiamo andare avanti così Siamo stati molto bravi a non subire il contraccolpo che poteva pesare perché comunque finita la partita guardo la classifica e in due o tre abbiamo detto pensa se vincevamo mercoledì però le partite si chiudono, si mettono via e si testa alla prossima oggi abbiamo vinto, è finita e andiamo a Arconate a cercare di fare risultato